Ma buon salve a tutti amici miei, io sono Furabio e oggi siamo tornati su WarioWare Get It Together per fare il nostro quinto episodio Prima di iniziare però amici miei come sempre SIGLA Allora in questo episodio siamo tornati su WarioWare Get It Together In questo episodio andremo da Ashley, Cibo e Orbulon, Cultura Quindi partiamo subito Andiamo Let's go Wario I problemi qui sono piuttosto evidenti Gregor che come al solito se non va di capociata non muove, non si muove Ashley, kawaii waifu Aha, Ashley, avrei dovuto immaginarlo Oh, è pensare che cominciavo finalmente a divertirmi Ashley Si dice Ashley però ok Non soppata tutto ciò che è carino e tende a non mostrare emozioni Ama fare incantesimi e adora mangiare E in tutti gli altri WarioWare non aveva mai dato prove che Cioè non ci sono mai state prove che a lei piace mangiare Però ok Si è ciò che piace a Ashley Ashley, uno dei personaggi probabilmente migliori di questo gioco Perché è uno dei più comodi Da usare Perché è molto fluido Attacca benissimo Attacca in una sola direzione Però comunque è molto utile No, hai fatto sta risata Ok Ok, si va a sterminare qualche bug E tu? Ci aiuterai? E perché dovrei? Ah, perché lo dico io E perché? Bah, tanto non ci serve Certo che vi serve Ah, è un emo praticamente Allora Ashley, Wario Che ne so, Krygor E Jimmy Si vai Cominciamo Magione di Ashley Si mangia Ricevuto In tanti posto Abra a bordo Abra a bordo Abra a bordo Abra a bordo Si parte Da notare come Ashley ha detto Si mangia Vabbè, lasciamo perdere Dunque Ashley, c'è entrato come abbiamo detto sul cibo Banan Ovviamente Ovviamente Let's go, Jimmy Dunque Vai, la pannocchia, pannocchia Ovviamente Jimmy se ne intende di pannocchie, no? E così sì, col diamine Vai Ashley Lascia solo il docetto Eh, ok Vai Da bene Eh sì, indifferente Wario Però i donuts sono buoni Allora questo qua è difficile Questo Ok Bene Wario se lo sarebbe divorato tutto col gelato Ma ok Poi adoro il tema di Ashley Però penso che lo conosciate tutti Quindi Sbucciamo sta banana No bestia Ok Ok dunque Cancella il Pera Buona Pomodoro E pera Così lucida però non l'ho mai vista Tra buona In bollo Mescola Bisogna Ok bisognava premere sull'arancia Buon lavoro Vai Craigor Facciamo cadere tutte le mele No, la mela Ok Che f Mamma mia Ok Vai, rotola Ciambella Gnam Bene Non so quanti round ci sono Allora fammi uscire da questo coso A quanto pare Craigor è il miglior personaggio per questo Non l'ho mai provato Craigor su Su quel minicioco dovete riuscire dalla bottiglia di succo Eh, rimaniamo la chiave inglese Beppermen Va il gelato era in quello centrale Adesso è a destra Vai Forse Jimmy non è il personaggio adatto per questo minicioco Però ok Siete di Oh crepio Io avanti questo diventerà molto infame Perché non dovrete solo sedervi No, dovrete anche scambiarvi di posto No, no Il budino non si tocca Era un budino giapponese Tipico It's boss time Allora Questo minicioco non è che è difficile Però comunque Secondo me non c'entra quasi niente con Ashley Però ok In pratica bisogna Dobbiamo spremere questi Cioè dobbiamo innanzitutto Togliere i piccioli dal Cioè togliere l'uva dal picciolo E poi spremerlo in questi In questi vasi di vetro L'abbiamo fatta quasi L'ultimo Vai abbiamo fatto Fine Bene Perfetto Grande Ashley Ovviamente Oh per una volta che Ashley dice che è divertente Poi con quella faccina Bene Adore Addio Chi se ne importa In effetti Ashley Mille monete Perfetto E ora andiamo sul mio personaggio preferito Di tutto WarioWare Horbulon Andiamo Eh si è giunta l'ora Di andare dal mio personaggio Mio preferito Cos'è questo Cos'è stato quel rumore Che fifa Horbulon amico mio Cosa stai combinando Oh colpa mia Bene Un alieno che aspira a conquistare la terra Vive qui da tanto e conosce bene la nostra cultura Fantastico Poi Horbulon Mi piace anche usarlo in generale E' molto bello da usare Mi piace attirare Mi piace aspirare via gli oggetti E rapire i nemici Così E' molto divertente Cioè ho trapassato l'incudine Il mio raggio trent non funziona con questi cosi Questa roba non sparirà se lo mettiamo fuori gioco tutti quei bug cattivoni Capisco Allora qui presente Horbulon si sbalazionate quei bug con stile Bravo Horbulon Allora vai Ashley 18 volt E Dribble Anche se teoricamente Dribble e Spezia sono più o meno la stessa cosa di Ashley Però ok andiamo In giro per il mondo con Horbulon Deserto Goro Città Kateshiko Isola Holac Casa di Wario Ma ditevi non sta pure voi troppo simpatico Horbilo Horbulon Vai Scorri Perfetto Facile Cioè ditemi voi la voce lo stile Tutto quanto Non vi sta troppo simpatico ora qua a tempo Eh Eh con la musica 18 volt Eh pota togliamo l'erbaccia La radice Il rapicante Whatever quello che era Ok Perfetto Vai Dribble Dunque Eh ok Questa Bambola russa È fatta È fatta Mi piace Mi piace Poi lo sfondo è troppo bello Mi piace questo rione tra l'azzurro e il rosa Eh ok È un gelato Un gelato No Un gelato senza cucchiaio Sì Però un gelato col cucchiaio sarebbe stato abbastanza Vabbè Sturalo Sturalo Oh cavolo Cosa c'è qua dentro Del pane Perché c'è un panino dentro Un corno Vabbè Che senso ha Abbina la maschera Eh Questa Vai vai Perché una maschera agiziana In Giappone non lo so Però ok Spegni Spegni Ah ecco Bene Si piscia Vai pisciaci sopra No No Ho detto pisciaci Sopra Liscio come il piscio Va bene Dai Accendi Ok così No bestia Ok non lo sapevo questo Questo ciò che non lo sapevo Oh no Stop Dai non voglio deludere Orbulon Dai Non ha denuso Ashley Non voglio deludere Orbulon Marca mia Ah velocità della luce Ok Eh ok questo Ma cosa sono coppe di legno Non lo riconosco Questo qua Bene Bene Il trenino del Il trenino del 700 Sotto il riflettore Oh cavolo Devo spostare lui Oh 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 Osserva Osserva Il ninja dov'è Lì Trovalo Nel vaso Che verso ha fatto Che Boss time Che boss era? Ah, ok, sì, questo me lo ricordo Sto boss, ecco, mi piace Orbulon Ma non mi piace questo boss Probabilmente uno dei boss che mi piacciono di meno Vedete? Bisogna in pratica Andare su quella piattaforma Per sollevare e abbassare il ponte Quando passano le navi o quando passano In questo caso le automobili Ok, dunque, vai E bisogna anche tenere premuto in basso Se no non va, non può durare per sempre Ok, vai, ultima, bene Così tanto per Vai London Bridge Che spasso Galattico, Abbulon Con quegli sterei con il Come si chiama, con l'ampere viola, mamma mia Bene E addio Bug Blue Perfetto Abbulon, domina i bug E poi Il mondo intero Guarda, secondo me lo renderesti solo migliore Guarda, per quanto fa schifo adesso la terra Bene Va bene amici miei Spero che questo video di Wario Warrior Get It Together vi sia piaciuto Cominciamo sempre iscrivetevi Mettetevi un mi piace Lasciate tanti bei commenti C'è pagine Instagram Che trovate sotto la descrizione Attivata la campanella Oh no, amici miei Ci rivedremo presto We're going to be the best 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 We're going to be the best